50. Cuoricini Figure di cuoricini apportate dai loro cari da poco trapassati a Raffaele Gigli e Salvatore Di Maio. Il fenomeno ha un significato fortemente affettivo e, in genere, non è valutato per come meriterebbe. Bisogna però considerare che è prodotto da entità che sono trapassate da poco e agiscono nella pochezza della loro condizione astrale. Presso il cerchio Exodus anche la partecipante Monica trovava in continuazione e dovunque chiavi di tutte le forme.